Salle mi trova a Cascina Triulza per un progetto molto interessante insieme a Lifeability, un progetto che nasce nel mondo della Lions Club, in cui vengono preparati i giovani che hanno creato dei progetti sociali molto importanti, socialmente utili diciamo, e questo è il secondo anno a cui partecipo come testimone di questo progetto e devo dire che sono colpito dalla creatività, dalla passione che mettono questi giovani nel costruire dei progetti utili, socialmente utili. Quindi oggi è stata una giornata molto bella, interessante, abbiamo visto dei giovani che porteranno le loro forze, le loro energie nel futuro. Grazie.